Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi vedremo lo store, finalmente, ChaGPT ha rilasciato lo store dei GPTs. Basta collegarsi a ChaGPT, ok, credo la versione 4, quella a pagamento, che ci permette di creare il nostro GPTs, ovvero creare il nostro bot personalizzato sfruttando l'intelligenza artificiale che, diciamo, va a risolvere un problema in una determinata nicchia. possiamo crearlo, possiamo pubblicarlo e possiamo anche guadagnarci. Ci possiamo guadagnare perché hanno annunciato che nel primo quadrimestre del Q1 del 2024, quindi nei prossimi mesi, attiveranno la monetizzazione. Questo che vuol dire che in base a quanto saranno utilizzati i GPTs, loro daranno dei soldi, ok, in base a quanti click, a quanto sarà utilizzato. Vedremo in futuro, quindi iscriviti al canale perché vi farò degli aggiornamenti quando tutto questo sarà realtà, ma intanto questa è un'opportunità. Se tu riesci a creare un GPTs con i giusti prompt che risolve un problema specifico, che è utile e la gente lo usa, puoi guadagnare online semplicemente con ChaGPT, direttamente dentro ChaGPT. Non usi ChaGPT per creare qualcosa con l'intelligenza artificiale che ti aiuta, crei un libro, crei un sito, crei qualsiasi cosa, un testo, ti vendi articoli. Abbiamo visto in questo canale YouTube una marea di utilizzi che ChaGPT ci permette, ci facilita il lavoro e quindi ci fa guadagnare online. Iscriviti al canale se non sei ancora iscritto, guardati la playlist video corsi completi gratis su come guadagnare, c'è anche la playlist come guadagnare con ChaGPT. Dacci un occhio, qui parliamo proprio di business online e l'intelligenza artificiale ci aiuta. Quindi non solo ChaGPT è uno strumento incredibile che ci permette appunto di guadagnare online, ma lo fa anche, ci dà proprio una possibilità di monetizzare proprio attraverso il suo store. Adesso lo guardiamo, stiamo sulla mia home page, l'hanno rilasciato credo oggi o ieri. Non lo so se lo trovate, stanno facendo gli aggiornamenti, può darsi che magari avete ChaGPT 4 ma ancora non lo vedete, però qui hanno aggiornato la sezione Esplora, adesso è diventata Esplora GPTs. E si presenta così, c'è anche una barra di ricerca e allora ci sono tutte le categorie dei GPTs. Ripeto, voi potete crearne uno, l'ho fatto vedere in altri video, vi metto anche il tutorial nelle schede. Ho creato il mio personalissimo chatbot Michele Maralino Business che è ancora privato, potrei pubblicarlo e voi lo potreste utilizzare e quando attivano la monetizzazione io potrei guadagnare, incredibile, ripeto, per chi ha una community, quindi chi ha un seguito sui social, questa roba è potentissima per monetizzare perché vi aiuta tantissimo. Però anche se non avete nessuna voglia di mettervi sui social a costruire la vostra community, potete costruire il vostro GPTs e guadagnare se fate un bel lavoro. Ma andiamo a vedere le categorie, no? Allora, questo, Featured, sono quelli praticamente che, diciamo, in evidenza credo che hanno praticamente sponsorizzato, non so se hanno accordi con CGPT, li vediamo qui. Credo che ruoteranno, ogni tot di tempo cambieranno. Allora, Trending, poi c'è la categoria quelli che sono più popolari, per esempio questo Consensus ti permette di accedere a 200.000, no, 200.000 sarebbe 200K, 200M sono 200 milioni di papers accademici, ok? Per tutti quelli che studiano, università studi, 200 milioni di papers accademici, quindi puoi fare una ricerca mirata direttamente nei papers accademici. Ce ne sono tantissimi anche che ti aiutano a scuola, hai PDF, tu praticamente cosa fa questo? Hai PDF, puoi mettere un, praticamente PDF, e qualcosa fa, credo te lo trasforma in, diciamo, in testo, e sono quelli più in trending, che poi ci sono tutte le varie categorie, quelli creati direttamente da CGPT, quelli che hanno a che fare con Dalì, che è, diciamo, il tool, cioè l'intelligenza artificiale creata dalla stessa casa madre di CGPT che è OpenAI, che riguarda le immagini, che è integrato adesso nel CGPT 4, quello a pagamento, 20 dollari al mese, pazzesco. Questo logo creator, pazzesco, ora, i loghi, quindi crea un logo, crea un logo per una squadra di calcio A5 in provincia di Alessandria. La squadra, la squadra si chiama Alex Football, Football. Vediamo, non so se ho scritto bene, chiedo scusa, se potrei avere football, si scrive così, forse una O alla fine. Ma tanto lui capisce, adesso creerà il logo. In the province, ah, ti chiede un po' di questioni. Mettiamo A. Bellissimo. E adesso lo sta creando. Next question. Vabbè, bomba, 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 quindi tutti i tool di immagini, il logo GPT, poi c'è la sezione produttività, la sezione ricerche e analisi, che è potentissima, programmazione, tutti i tool che ti aiutano, anche un Ace Voice Generator. Ragazzi, dategli un occhio perché è una bomba, abbonatevi a CGPT 4 che è una bomba. Vediamo questo, AI Voice Generator. Puoi parlare? Vediamo che mi dice. Certo, posso trasformare il testo in audio. Se hai un testo specifico, c'è, questo ti trasforma il testo in audio. Avete capito? Cioè, i GPTs sono dei chat GPT specifici per una categoria. E voi li potete creare e non vi serve, non vi serve, saper programmare. L'abbiamo visto in altri video, adesso lo vediamo comunque. Vi basta dare dei semplici comandi, dei prompt e create il vostro GPT. Se lo pubblicate e guadagnate tra qualche mese. Se hai un testo specifico che vuoi sentire come audio, per favore condividilo con me. Inoltre, scegli una delle seguenti voci per la tua registrazione audio. Pazzesco. Poi c'è la categoria educazione, lifestyle, carica di più. E poi qui c'è la ricerca, no? Qui in alto, voglio giocare. No, fidanzate, vediamo se c'è. Fidanzate AI. Fidanzate, fidanzata virtuale. Nessuno ho trovato. Questa è una grande idea. Non so se avete visto il video, ve lo metto qui nelle schede. Potreste sviluppare un chat GPT. Una chat bot donna, come vi ho fatto vedere nel video precedente, credo. No, ho pubblicato altri video. Comunque, come crea una fidanzata virtuale con chat GPT e focus bomba. Andatevi a vedere quel video, ve lo metto qui nelle schede. Qui, in alto a destra, vedete se il pulsante crea un GPT, potete dare un comando qui, crea una fidanzata virtuale. Ok? Lui crea una fidanzata virtuale. Ovviamente il prompt deve essere più specifico. Più è specifico, più siete dettagliati, più funzionerà meglio. E più, una volta che l'avete pubblicato, potreste, una volta pubblicato, guadagnare. Perché più è fatto bene, più la gente lo userà. Ok? Quindi c'è anche questa possibilità. Quindi, per crearlo, vi basta mandare un comando. Quindi cliccate in alto a destra su crea GPT e stop. Eccolo qua. A friend virtual compare. Qui, su configura, potete dargli un nome. Girlfriend. A-I. Bomba. Ok? Poi andate qui, potete salvare come pubblico, anche nella categoria. Vediamo tutte le categorie che ci sono. Lifestyle, Education, Programming, Research Analysis, Produttività. Scrittura. Ci sono tutti i tool di scrittura. Cioè, adesso li vediamo. Qui mettiamo Other e lo pubblichiamo. Io non lo faccio perché... Però abbiamo un'idea. Creato un GPT originale e la gente lo utilizza. Elimita GPT. Magari poi potrei pensare di farlo meglio. Se io scrivo Writing, Writing, qualcosa mi uscirà. Easy Writer, Professional Writing Coach, Creativi Writing Coach. Bomba, bomba, bomba. Vi voglio far vedere l'ultima cosa. Se andiamo sul nostro qui nome profilo, Michele Maraglino, quando ho creato un GPT, potete scegliere se far vedere il vostro nome. Quindi, per esempio, Michele Maraglino, cioè la mia fidanzata virtuale, Emanuela Ai. Vai Michele Maraglino, compare. Per modificare potreste mettere anche un sito internet se avete le vostre attività. Basta andare qui, in basso a sinistra. Impostazioni. E poi, profilo del costruttore. Potete mettere il vostro nome o il sito web. E a questo punto dovete verificare un nuovo dominio. E invece del nome Michele Maraglino, magari c'è il vostro sito che è cliccabile, che potrebbe essere anche un'ottima pubblicità. Quindi, controllate se avete già GPT4. Entrate e poi cliccate. Vedete se ne è uscito l'Explorer GPTs. A quel punto avete accesso allo store. Potete utilizzare questi GPTs gratuitamente. Potete creare il vostro. Potete renderlo pubblico, così tutti lo possono usare. E nei prossimi mesi, CiaGPT monetizzerà, pagherà i creator di GPTs. Almeno quelli che saranno più utilizzati. Poi vedremo come. Però, molto, molto interessante. Fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Iscriviti al canale, commenta. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!